Un'originale Via Crucis, Via Lucis, verrà ospitata nel Duomo di Teramo venerdì 13 marzo. La sacra rappresentazione di Mimmo Muolo è un percorso nel periodo pasquale sulla passione, la morte e la risurrezione del Cristo, che ha come sottofondo l'orchestra mediterranea dell'ICOM. Una sacra rappresentazione, coro, orchestra, solisti, attori, con la partecipazione di Claudia Coll, una grande artista che per l'occasione reciterà, appunto farà la parte proprio della Madonna che piange sotto la croce di Gesù Cristo morto. Naturalmente come sacre rappresentazioni si parlerà appunto della, tratterà della passione, della morte e della risurrezione di Gesù Cristo. Ad interpretare la Madonna che conduce i credenti nella sofferenza per la morte di Cristo è Claudia Coll, che ricrea la disperazione con un pianto nella scena clou. La madre accompagna il figlio nella buona e nella cattiva sorte, come tutte le mamme del mondo, e qui abbiamo sia il figlio speciale ma anche la mamma straordinaria. E anche questa Claudia Coll, che sarà poi l'interprete di Maria, da artista sempre a convertita a un certo punto, forse non sarà, è prevedibile, neppure fuori posto, che qualcuno l'ha visto, almeno lo dice, piange anche, ma non piange per arte, piange perché crede a quello che dice, a quello che esprime.